Ciao, ma cos'è la paura? La paura di non farcela, la paura di rimanere solo, la paura di ammalare, c'è un elenco, tutto paura, paura, paura di, paura di, paura di. Quando qualcuno è coraggioso, ha senza paura, magari un'incosciente dice qualcun altro, perché va a rischiare il corpo, però non ha paura, in quel momento non ha paura. Sono delle persone che si sono buttate dal trampolino e si sono fatte male, altre si sono fatte un tuffo, qualcuno si è buttato per farsi vedere che si buttava, ma io sto parlando, la paura fa male dentro e fuori, dentro e fuori. Cosa vuol dire? Che c'è un solo sistema per lasciare andare la paura, guardarla. Tu immagina che hai una saponetta, sapone, sapone, e ti toglie la paura, cosa fai? Ti metti da tutte le parti sto sapone, no? Qua, qui, qua, perché dici, guarda questa è una saponetta che porta via la paura, io non voglio la paura, e la saponetta che marca è? Mettiamo che la saponetta abbia un nome, amore, amore, ecco. Allora se tu ti spalmi di amore, no? No, la paura se ne va, da dentro e da fuori. La paura è negatività, sia tossine fisiche che mentali, sia sporco fisico che mentali, sia inquinamento fisico che mentali, quindi voglio, soprattutto durante la doccia, facendo la doccia è molto utile e ripetere voglio che ogni negatività abbandoni immediatamente il mio corpo e la mia mente, con l'acqua che cade. Non è pioggia, è doccia, è una purificazione. ricordiamoci che la paura fa male dentro e fuori e dove rimane? Dentro. Uno può stare a casa, porta blindata, avere anche un cane da guaria, c'è ancora paura perché è dentro la paura. Paura dei ladri, poi va a dormire, fa paura dentro, sogna i ladri. Una volta in una conferenza dissi una cosa che mi è piaciuta dirla, la ripeto. Nel mondo i poveri vanno a letto presto e sognano castelli, pianure, tramonti, albe, corpi belli, cioè feste da ballo, musica. I ricchi, per paura di sognare la povertà, la miseria, il dolore, cercano di andare a dormire il più tardi possibile, stordendosi con alcool, droghe, sostanze, di modo che poi cascano o prendono i sonniferi. Io ho conosciuto persone ricche che avevano problemi, allora prendiamo i sonniferi. Non sto neanche a dire i nomi dei sonniferi, ma li prendevo. Così erano in stato, erano paralizzati. Ed era gente che aveva soldi, però non erano, non riuscivano a prendere la casa, i soldi, i vestiti, le macchine e a portarli nel sogno, nella vita notturna. Quindi facevano una vita notturna stando aperti, bevendo, eccitandosi, muovendosi. Quindi dicevo, i ricchi non vogliono dormire perché fanno sogni i poveri, i poveri cercano di dormire perché fanno sogni i ricchi. Io dico, usciamo un attimo da questa logica qua. La paura fa male dentro e fuori, allora conviene amare dentro e fuori. Mando il mio amore e la mia buona energia a tutte le parti del mio corpo, allo stomaco, all'intestino, al pancreas, alla milza, al fegato, ai reni, a ogni cellula. Lascio scorrere liberamente l'energia vitale in ogni cellula del mio corpo. Mando amore e buona energia a ogni cellula del mio corpo. Noi siamo fatti di cinque elementi che quando poi il corpo muore, il corpo si dissolve. la differenza tra noi e un pupazzo di neve è che il pupazzo di neve, quello che si chiama, si scioglie col calore. Noi col tempo, nel tempo ci sciogliamo. Cioè un giorno questa mano non ci sarà più. E uno pensa quando muori. No, non ci sarà più, nel senso che se ogni cellula avesse una data di nascita, ogni tot anni questa mano è completamente diversa. Adesso molti dicono ecco qua l'intelligenza artificiale non va bene, però voglio dire ho visto delle persone che hanno un braccio, che hanno perso un braccio, gliel'hanno messo un altro e riescono a prendere un bicchiere e a bere. Ho visto un video di uno che non ha le braccia, gli hanno messo una protesi e riesce a muovere. Allora voglio dire a quello lì che l'intelligenza artificiale non va bene. Cos'è che non va bene? Quelli che dicono che l'intelligenza artificiale non va bene, mi ricordano quelli che dicevano che l'elettricità era figlia del diavolo. Ci sono stati dei capi religiosi che hanno detto, altri che dicevano che le patate non vanno bene perché vengono da sottoterra. Sottoterra c'è il diavolo, c'è delle cose. Ci fu una carestia, carestia vuol dire mancanza di cibo in Francia. Parmentier, facendo le patate alla parmentier ha salvato la gente. La patata veniva fuori facilmente, solo che non sono buona. Però se le sai cucinare bene, la patata va bene. Però era un cibo inferiore, addirittura cibo del diavolo. Qualcuno diceva del diavolo. L'elettricità figlia del diavolo. Adesso ce l'hanno in tutte le chiese, in tutte le parrocchie, in tutti i conventi usavano l'elettricità. Anzi la cosa che una volta usavano le candele, una delle ultime volte, una chiesa ha visto che mette il gettone, c'è il gettone, si accende una specie di finta candela. Quindi l'elettricità va bene. va bene l'elettricità. Quindi noi abbiamo la possibilità di accendere amore, buona energia, conoscenza, compassione in ogni cellula del nostro corpo. Quindi dove c'è amore non c'è paura. Appena... Beh, ammettiamo che stai sentendo o la radio, o la televisione, o un cd, no? O qualcuno che parla. Se non hai capito, dici come hai detto e quello parla un po', no? Oppure alza il volume. Quindi se sentiamo paura dentro e fuori, alza il volume dell'amore. io voglio, ogni giorno voglio imparare ad amare meglio. Ogni giorno io voglio imparare ad amare meglio e ti invito ogni giorno ad amare meglio. Studiando ieri, avanti ieri, la settimana scorsa, l'anno scorso, le vite precedenti. Buona fortuna! Grazie a tutti!